La Piana del Sile avrà il suo hub del freddo, il progetto ideato da Confagricoltura Salerno e Asi è stato presentato a Battipaglia, città che metterà a disposizione l'area di oltre 300.000 metri quadrati per ospitare la struttura. Abbiamo ritenuto di poter dare un contributo per realizzare un'idea e una struttura che possa chiaramente essere a supporto dell'attività agroindustriale della Piana del Sile. L'hub del freddo servirà a gestire la conservazione dei prodotti facilmente dei peribili o che richiedono particolari trattamenti per la conservazione, una struttura condivisa anche dalla regione Campania che la considera strategica per lo sviluppo del territorio. Questo polo di investimenti si completa un ciclo importante di un distretto che conferisce alla regione Campania un grande valore aggiunto in termini di prodotto interno lordo della regione stessa, quindi noi dobbiamo assolutamente stare dalla parte del territorio, delle aziende che danno tanto lavoro e tanto sviluppo alla nostra regione. Il progetto tra l'altro vedrà protagoniste diverse aziende dell'agroalimentare che potranno condividere una struttura strategica per le loro attività. Dovrà vedere in primis il coinvolgimento dell'imprenditoria privata soprattutto locale che dovrà crederci avere un business plan che veda anche la creazione di valore nel medio e lungo periodo per le imprese coinvolte e per il territorio.